Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che abbiamo già visto in versione fan, trovate qui in alto la recensione. Questa è la seconda del Manchester United, però questa volta in versione player. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, probabilmente del Manchester United è quella che preferisco di questa stagione. Il costo lo vedete qui sopra, fate voi le vostre considerazioni, non voglio aggiungere altro. Se volete ordinare la maglia o avere qualche dettaglio in più, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere queste e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale. Però se volete vedere altre recensioni come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.